Ciao, benvenuto nel canale fanweek.it Ti piace la musica? Segui le nostre news musicali e le interviste esclusive agli artisti, famosi ma anche a quelli emergenti. Preferisci il cinema e la tv? Abbiamo anche quello, interviste esclusive ai protagonisti del mondo dello showbeats. Se invece vuoi semplicemente qualche pillola di leggerezza, beh, nessun problema. Segui le nostre news di gossip, lol news, strano ma vero, insomma veramente ne abbiamo per tutti i gusti. Naviga nella playlist qui sotto e scegli quella che fa per te. Ciao e buon divertimento!